E' stato presentato a Pescara, presso la sede del Consiglio regionale, un progetto degli Stati Generali delle Donne, ABB, che mira a ridurre le ineguaglianze, a contrastare le condizioni di svantaggio della persona, a ridurre i fenomeni di marginalità. Rosaria Nelli, presidente dell'Associazione Stati Generali delle Donne, ABB. Gli Stati Generali delle Donne, con questo progetto, vogliono dare una risposta a tutte quelle persone che con il Covid hanno subito un momento di isolamento, di marginazione nella società, e che non hanno avuto possibilità, per mancata conoscenza, di come fruire di alcuni servizi del territorio, alcuni servizi sociali. Quindi andremo ad agire sull'individuazione di queste persone che hanno bisogno di colmare questa conoscenza dell'uso anche dell'informatica digitale per poter fruire di alcuni servizi, perché ci sono tante app, tanti sistemi per potersi servire e rimanere sempre in contatto con la società. Obiettivo principale del progetto dunque è ridurre la divisione digitale generazionale, incentivando l'educazione al digitale di anziani e donne. Pina Rosato, coordinatrice del progetto. Il progetto Innovazione Digitale Generatrice Sociale in epoca post-Covid-19 è stato elaborato dagli stati generali ABB, rispondendo ad un bando della regione che riguardava sia il sociale che il digitale. E noi abbiamo colto questa palla al balzo e il nostro progetto è rivolto a ben 120 utenti sul territorio chietino, in particolare però si differenzia un po' sia sul territorio costiero con Francavilla al mare e con altri tre comuni all'interno del Sangro, Bomba, Pietraferrazzana e Fallo. Saranno elaborazioni artistiche, culturali, relazionali, proprio per far uscire dall'isolamento forzato causato dal Covid, nel lockdown della primavera del 2020. Inoltre è previsto un monte ore notevole, 350 ore, dove si alterneranno professionisti, artisti, esperti in relazione e motivazione, proprio per raggiungere l'obiettivo fondamentale e diffondere la cultura del digitale che per noi oggi, 10 dicembre, giornata dei diritti umani, fa parte proprio questo diritto, diritto alla cultura del digitale.